Sì, è venuto al lavoro? No, è venuto al lavoro! Prima lavoro, non sono alle fanno! Bene, adesso manco io! Ragazzi, non sto respirando, non sto respirando! Tutto è fatto! Felicità, felicità! Felicità, felicità! Quindi in meno di... Stamattina alle 9.30, alle 10.25 avevano già risposto, alle 12.40 ho fatto il colloquio, all'1 avevano confermato. Quando si vuole parlare i tempi? Bene! Allora, ricapitolando che oggi lei ha trovato lavoro e io ho avuto due chiamate, quindi ho anche due lavori, in teoria. Anch'io, teoria, perché adesso devo andare a trovare un'altra cosa, ho avuto un'ottima vita. In una giornata abbiamo accappiato i lavori. Quattro lavori. Quattro lavori. Quindi chiunque stessa cercando lavoro, noi offriamo lavoro, assolutamente. Siamo bene, il lavoro ce l'abbiamo e uno l'altro dovrebbe andare. Esatto. Iniziamo, intendo cominciamo. Iniziamo a lavorare. Iniziamo a lavorare. Continuiamo a seguirci perché non è che... Magari ci trovano alcuna casa. Infatti la casa... Visto che non la abbiamo ancora. Qua la tenda non si può usare, eh? No. Vietatissimo anche in spiaggia. Va bene. Ciao. E spegniti. Non si spegne.